I fondamenti del trasferimento tecnologico e le novità verso la terza missione. È stato questo il tema al centro del corso che NETVAL, l'Associazione delle Università Italiane impegnate nella valorizzazione dei risultati della ricerca pubblica, ha voluto ottenere il 16 e il 17 maggio all'Università di Camerino, obiettivo del corso che ha visto la partecipazione di docenti, ricercatori ed amministrativi provenienti da molte università italiane, è stato quello di fornire gli elementi chiave dal punto di vista teorico e pratico relativi alla valorizzazione della ricerca pubblica e delle conoscenze manageriali necessarie per una gestione efficace ed efficiente dei processi del trasferimento tecnologico. La terza missione non esiste. È la missione dell'Università, perché la ricerca non serve a se stessa, serve a tutti. Per cui il vero tema che oggi noi dobbiamo affrontare è far capire alla società, e vuol dire ai cittadini, vuol dire alle amministrazioni, ai politici, alle imprese, a chi crede nel progresso del Paese, che la ricerca è un suo mattone importante, fondamentale e che grazie alla valorizzazione otteniamo il beneficio della ricerca. Per cui la terza missione è la missione e la ricerca è lo strumento.